Wippet. La storia del Wippet è relativamente recente se la si confronta con quella degli altri lebrieri, alcuni dei quali, come abbiamo visto, vantano origini millenarie. Questa razza è stata selezionata dagli operai e dai minatori delle aree industriali dell'Inghilterra del Nord per la caccia alla lepre a coniglio selvatico. Non si conoscono con precisione le razze che hanno concorso alla formazione del Wippet. In mancanza di fonti scritte e precise sono state formulate delle ipotesi, che a volte sono diverse e contraddittorie. Nei giorni di festa venivano usati in campagna come cani da corsa su piste d'erba. Questi cani sfruttavano e sfruttano la loro abilità sulla distanza breve, che è quella necessaria a raggiungere un coniglio prima che raggiunga la sua tana, e la loro resistenza. Nota di curiosità, nei Simpson, il piccolo aiutante di Babbo Natale è proprio un Wippet.